Il venerdì santo Ne è un esempio, macellai, fruttivendoli, pescatori, ciabattini, popolo, rioni Durante tutto l'anno preparano i gruppi scultorei che rappresentano le varie tappe del Calvario Perché queste sacre immagini abbiano il risalto dovuto Le rimirano, le fotografano contro un fondale cielo appositamente costruito La storia è un esempio, macellai, fruttivendoli, pescatori, ciabattini, popolo, rioni I soldati romani sono vestiti ed armati quasi come i paladini di Francia E gli abitanti della terra santa somigliano ai mori dell'opera dei Bubi E gli abitanti della terra santa somigliano ai mori dell'opera dei Bubi E gli abitanti della terra santa somigliano ai mori dell'opera dei Bubi